Ormai di gente allegra nel calcio se ne vede poca. Prevalgono i brontoloni, quelli che vedono sempre gli scheletri e gli erogati. Ed è per questo che Gugia di Nilservo merita il titolo di mister simpatia. Nemmeno nei momenti caldi e difficili della sua gestione tecnica, Boscov ha mai perso il sorriso, la verve, quella nota ironica che si è sempre sposata con la gente di Genova. A Bogliasco Stabani la società doriana ha chiesto il silenzio. Troppo importante Wembley, troppi rischi dietro a interrogativi scottati. Senti, dopo Wembley c'è qualcosa, qualche novità per il tuo futuro? Non lo so. Di Vialli ce n'è uno solo, le altre semmai sono copie riuscite male. Ma il Bibio a nord-ovest fino a giovedì rimarrà un freddo cartello, un richiamo semmai a sensazioni romantiche più che alla dura legge economica del calcio. Roma invece propone un'autostrada lunga per Dino Zoffo. Ieri osannato, oggi contestato e proposto per un ironico scambio. Ma il timone laziale col Moro ha in comune solo la sconfitta, maturata di sabato in un pomeriggio da cani, dove ai laziali è andato tutto stolto. Il gol di Dole dopo dieci minuti di cori e sbadigli. Un palo di stroppa su calcio di punizione. Un paio di occasioni per rimpiangere gli assenti, il bilancio è in rosso. Per Boscov invece la prova d'orchestra in vista della finale di Londra va bene. La Sampdoria cercava il massimo con il minimo. C'è riuscita grazie a Buso, che prese in prestito la maglia di Mancini, lasciato precauzionalmente in tribuna, è riuscito a mettere dentro due palloni comodi comodi, con una difesa laziale impotente. La Sampdoria ha sudato poco. Sbaglia chi pensa che il cambio di maglia tra il primo e il secondo tempo potesse dipendere da una questione solamente igienica. Abbiamo visto solo cemento, il cemento è bianco, la nostra maglia è bianca, disturba, i giocatori hanno sbagliato tanti passaggi. Ultima domanda, Wembley, non ci sarà cemento sugli spazi ma molto pubblico, che maglia indosserete? Noi abbiamo preso decisioni di UEFA. Sampdoria gioca bianco come oggi, blu bianco, vuol dire che i catalani giocano come narancioni, vuol dire che tutto è deciso. Ora, l'unico cosa che posso dire è che noi non possiamo cambiare maglia in intervallo.